Oggi Michelin ha presentato due nuovi prodotti davvero molto interessanti, di cosa si tratta? Si tratta di due prodotti importanti per noi, parliamo del nuovo Pilot Sport 5 e del Prime C4 Plus, dunque parliamo di prodotti che coprono un segmento di mercato importante con calettamenti dal 16 al 21 pollici, sono dei pneumatici summer, dunque pneumatici di un mercato estivo e il mercato estivo oggi ha un anno, diciamo questa copertura dimensionale copre il 60% del mercato estivo. Parlando di mercato contiamo molto sul fatto che il mercato ci dia delle buone risposte, dopo il 2020 che è stato un anno un po' complesso a seguito degli effetti della pandemia, il 2021 è stato un anno assolutamente positivo per il mercato sia dei pneumatici vettura, quattro ruote, auto e anche per i pneumatici due ruote e consideriamo ancora positivamente il mercato nel 2022. Il Pilot Sport 5 è l'ultimo nato di una gamma molto importante per Michelin, da che cosa parte questo nuovo prodotto e in cosa è migliorato rispetto al passato? Certo, il Pilot Sport 5 è un pneumatico sportivo stradale che raccoglie l'importante eredità del suo predecessore, Pilot Sport 4, è un pneumatico pluripremiato quindi con delle prestazioni elevate, parlo di una elevata precisione di guida, parlo di reattività, parlo di sicurezza a cui oggi Michelin col Pilot Sport 5 va a migliorare ulteriormente la durata chilometrica e questo riusciamo a farlo grazie a un mix importante di tecnologie e materiali. E insieme al Pilot Sport 5 è arrivato anche il nuovo Prima C4 Plus, che cosa rappresenta questo Plus? Questo Plus rappresenta l'evoluzione, innanzitutto l'evoluzione rispetto al Prima C4 e il Plus è dovuto in effetti a un ulteriore miglioramento delle prestazioni sul bagnato, in particolare la frenata da usurato in prossimità del limite legale di usura del battistrada a 2 mm e un miglior controllo dell'acquaplaning. E c'è un buon interesse da parte del pubblico, nel senso il pubblico sta cercando questo tipo di prodotti? Assolutamente sì, il pubblico innanzitutto è sempre più attento a come spende, quanto spende, soprattutto cosa ottiene rispetto a quello che spende, dunque è alla ricerca del valore e Michelin ha mostrato in questi anni, ed è un po' il nostro punto di attenzione, poter ritornare a un valore, soprattutto in termini di permettere di usufruire della bontà e delle performance dei nostri prodotti fino all'ultimo chilometro disponibile, dunque poter usufruire della performance anche per esempio su pneumatici usurati e questo consente al consumatore di ottenere un saving, un risparmio in termini economici e di tra virgolette anche rispondere a questa nuova esigenza dell'utente che vuole sempre prodotti sempre più e brand prodotti sempre più interessati alla salvaguardia dell'ambiente. Grazie Grazie